Ciao tifosi della Lazio! Oggi parleremo del fervente mercato dei trasferimenti e di un nome che sta iniziando a guadagnare attenzione nei corridoi dello stadio olimpico. Sì, stiamo parlando della ricerca di un attaccante che possa davvero chiudere il mercato in bellezza per noi. La lista dei candidati è lunga e variegata, con nomi come Giobbe Bellingham, Lauriente, Vitor Roque e Fernandez Pardo che stanno attirando l'attenzione dei nostri dirigenti. Ma non finisce qui! Recentemente è emerso un nuovo nome che sembra poter prendere forza nei prossimi giorni. Sto parlando di Pontus Almqvist, il giovane esterno nato nel 1999, che ha giocato l'ultima stagione con il Lecce. Secondo tuttomercatoweb.com, Almqvist è entrato nell'orbita bianco-celeste e potrebbe essere una possibilità reale per rafforzare il nostro attacco. Non è solo un altro nome, il ragazzo ha mostrato talento e potrebbe portare quella nuova energia che cerchiamo per la squadra. Ora, voglio sentire da voi, tifosi, cosa ne pensate di Pontus Almqvist, a quello che serve per brillare nella Lazio e portarci a conquiste importanti in questa stagione? Lasciate i vostri commenti qui sotto, e non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ulteriori aggiornamenti. La Lazio sta costruendo una squadra forte, e ogni vostra opinione conta molto per noi. Pontus Almqvist, sarà lui il pezzo che mancava?